Centro, disegni questa tag per fuori Charlie, chi è? Lo stiamo inseguendo lungo la 74 direzione di Giannarello Che metto è? Una Fiat Multipla Di mezzo, direzione di fuori Giannarello Direzione Direzione di 64, paro il secondo Giannarello Che ascolti che c'è la forestiana Per la 385 direzione panoramia Nel caso in cui i colleghi hanno bisogno Perché stiamo inseguendo la tua vettura Il scopo che stiamo in generale Fiat Multipla, Charlie Yankee Fiat Papa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti